ciao a tutti portata un video di tutti i nostri artifizzi artifizzi capito che italiani ha ancora edifici eh infatti è sbagliato però va vero guardiamo una serie di raggi di non so cosa sono questi sono gli esperimenti che faccio questi sono le cobra eh puma explode esplode esplode vabbè varie fontane questa qua è una tavolata che ha preparato lui ecco tutto collegato con la miccia questa qua è la fontana le fisto vedete tutti artifizi 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 questa qua è una pallina che non so neanche cosa c'entra poi qua un raggio di quelli più patocchi che ci sono questi sono artifizi artifizi ecco questa bellissima tortina che è un artifizio artifizio si questo è la fortina un'altra cosa è la prima 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 cosa del mondo i razzetti mini piiii ovviamente le nostre facce io sono il ponte buo vabbè ciao pp yeah Grazie.